Ciao a tutti, in questo video voglio parlare della psicogeneologia o sindrome degli antenati. Cosa significa, di cosa si tratta? Significa che noi viviamo, diciamo, abbiamo un patrimonio genetico che è, come dire, deriva dai nostri antenati, ma questo patrimonio genetico ha anche una valenza psichica. Una valenza psichica nel senso che corpo, soma e mente sono comunque correlati, sono comunque interconnessi, per cui noi ci portiamo dietro, in un modo o nell'altro, anche i traumi, i turbamenti che in qualche modo hanno vissuto i nostri antenati. Questo da un punto di vista proprio filogenetico, che non c'entra nulla con, diciamo, eventi karmici, perché non è un patrimonio, diciamo, il karma, sono le azioni che la nostra anima mette in atto e compie, la nostra anima o comunque nelle vite precedenti, quindi ci portiamo dentro proprio un'impronta a livello molto profondo. Mentre per quanto riguarda la, diciamo così, la psicogeneologia o comunque i traumi vissuti e dai nostri antenati, in qualche modo li portiamo dietro a un livello meno profondo, cioè a un livello emotivo fondamentalmente, non a livello di anima. Però in qualche modo possono avere delle influenze, per cui ci possono essere dei comportamenti ripetitivi, ci possono essere delle situazioni che magari non si sono ancora completamente realizzate e talvolta quindi possono emergere, possono venire fuori delle situazioni che non sono correlate, diciamo, al nostro vissuto, neanche al nostro vissuto karmico, al nostro vissuto di anima, quanto al, potremmo dire, potremmo chiamarlo un karma familiare, volendo, perché comunque anche la scelta del tipo di nascita dipende sempre da azioni che abbiamo fatto. Quindi, diciamo, il discorso è molto complesso. Però noi possiamo, attraverso, diciamo, un'elaborazione, andare a sciogliere tranquillamente questi turbamenti, questi traumi che ci portiamo dietro. Una tecnica interessante è quella dell'utilizzo delle fotografie, quindi se riusciamo a recuperare delle fotografie e degli antenati, e possiamo, diciamo, anche soltanto guardarle con una lente di ingrandimento, però, perché guardandole con una lente di ingrandimento possiamo vedere l'immagine che si manifesta, il turbamento, possiamo vedere le paure, possiamo cogliere attraverso le espressioni, anche di foto molto, molto vecchie, cerchiamo di risalire. È importante anche leggere la storia, perché se riusciamo a farci raccontare, se abbiamo qualche parente che ci può raccontare, diciamo, le vicissitudini, perché semplicemente elaborandole, semplicemente guardando le emozioni, semplicemente rendendoci conto di chi siamo fondamentalmente il prodotto genetico, riusciamo a ottenere dei risultati molto, molto positivi e liberarci da tutti questi traumi. Bene, per questo video è tutto. Ti ricordo che ai 30.000 iscritti ci sarà la possibilità di un'estrazione per cui potrai vincere un corso con me o dal vivo o tramite video, per cui iscrivetevi al canale. Ti ricordo ancora che venerdì 27 gennaio 2017 è Toro a Torino un corso su come coinvolgere e fare le morale gestendo le emozioni, quindi se sei interessato il riferimento è 333 15 11 703. Ciao!